Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Amedeo Venza ha condiviso su Instagram una storia nella quale riporta una segnalazione di una persona presente al matrimonio di Manila Nazzaro. Durante il matrimonio di Manila a tavola, un'invitata ride sguaiatamente sputandole il vino sul suo vestito. Se vedevi la scena, ovviamente lei si è stizzita perché l'abito era tutto macchiato, si legge. Amedeo poi ha taggato Dejanira Marzano, scrivendole che la vicenda andava approfondita. Intanto però, Manila non è intervenuta sulla questione. Anzi ha voluto celebrare l'amore scrivendo sui social un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti. La vita ti regala una favola, fortunatamente, l'episodio non le ha rovinato il suo grande giorno. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!